Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi volevo mostrarvi tutti i miei modellini della Formula 1 Avevo in mente questo video da un botto di tempo Comunque ragazzi, prima che inizia il video mi raccomando iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto Attivate la campanellina e spolliciate Ma l'importante è che i miei video vi piacciono Allora, incominciamo da questa macchina Che a me sembra una Mercedes AMG Quella è la petrol Quella invece c'è scritto Motor Don Best Penso dove Però ha scritto tipo Mercedes Quindi per me è una Mercedes AMG Comunque ragazzi, mandateci anche questa Mercedes La faccio dall'intorno Di dietro Comunque questo in scala 1.24 E gli interni Poi ragazzi passiamo a questa Ferrari Una Una Ferrari F2012 In scala 1.32 della Burago Davvero molto bella Di questa ne ho due Infatti Però questa Quella l'ha un pochetto tenuta meglio Della Burago Davvero molto figa Comunque Si vanno in scala C'è questa Ferrari River La faccio dall'intorno Di dietro E gli interni Poi passiamo a questa Ferrari SP1000 Nel 2020 Di Charles Leclerc Anche questa Questa in scala 1.43 Della Centauria Che avevo fatto Oppure l'unboxing Che ho pure Quel fascicoletto Di questa Ferrari Per chi vuole Questo modellino Lo può trovare in edicola Davvero Molto bello Fatto davvero bene Comunque ragazzi Bando le ciance E questa Ferrari Ve l'accedere intorno La scatola Mi piace un botto Anche per il design là Di dietro Fatta benissimo E Gli interni Ve l'accedere così Poi ragazzi Passiamo a questa Ferrari Della Formula 1 Questa è Della Maggiorette In scala 1.64 Io Maggiorette Ne ho pochissime Beh Questa Purtroppo Non so Che modello è Ma se non sbaglio Questa qua Dovrebbe essere Tipo quei vecchi Modellini Vintage Questa qua Dovrebbe essere Tipo una Ferrari Della Maggiorette Quella Lamed in Francia Che Non in Francia Mi pare In Francia Giusto Si vede in Francia E in scala 1.64 Comunque ragazzi Bando alle ciance Questa Ferrari Ve la faccio Dell'intorno Di dietro Davvero Fatta benissimo E gli interni Che non si vede niente Però ragazzi Passiamo a quest'altra Ferrari F 2012 Sempre Buraco In scala 1 Sempre la stessa Se non sbaglio Questa Scala 1.32 Mi ero Dimenticato Di darvi un dettaglio Questa macchina È di Fernando Alonso Davvero Molto Figa C'è pure Il casco Suo Davvero Molto Molto Bella Infatti Faccio i miei Complimenti Alla Burago Davvero Molto 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 Dettagliata Comunque Ragazzi Questa Ferrari Ve la faccio Dintorno Di dietro E gli interni Vabbè ragazzi Spero che questo Video Vi sia piaciuto Se volete vedere Altri video Tipo Non lo so Se volete vedere Qualche altro Mio modellino Che non avete mai visto Scrivetemelo Scrivetemelo Sotto Nei commenti Tipo Non lo so Un esempio Se volete vedere Tipo Tutti i miei Modellini Di camion Ve li faccio vedere Basta che me lo scrivete Sotto nei commenti Comunque ragazzi Spero che questo Video vi sia piaciuto E ci vediamo Al prossimo video Ciao